Buonasera studentesse e studenti, in questa video lezione affronteremo il principe di Niccolò Machiavelli. Dunque, in primo luogo ricordiamo il periodo di scrittura. Ricordiamo che nel 1512 i medici vengono riportati a Firenze, ritornano al potere a Firenze, che Machiavelli viene sospettato, nel senso che in quanto strettissimo collaboratore del capo della Repubblica Fiorentina viene sospettato, finisce in carcere, subisce la tortura e infine viene isolato a San Casciano, in una sua proprietà di San Casciano, escluso dalla vita politica. In questo periodo, dunque, lui si dedica agli studi e il frutto di questi studi è appunto questo trattato. Dunque, il periodo di scrittura è fra il 1513 e il 1514, verrà completato solo nel 1516, con l'aggiunta di una dedica a Lorenzo II dei Medici e di un capitolo finale, il 26, che è un'esortazione a Lorenzo II dei Medici a riunificare l'Italia centrale. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un trattato, di un trattato il cui titolo è De Principatibus, vale a dire riguardo ai principati, è scritto in volgare, è composto da 26 capitoli preceduti da un titolo in latino. È un trattato, dunque è un testo in cui l'autore si propone di trasmettere le sue conoscenze riguardanti la politica, derivanti sia dalla pratica quotidiana della politica per 15 anni, sia dai suoi studi, e però anche è un testo con cui Machiavelli si propone di rientrare nelle grazie dei Medici. Dunque ha questo doppio obiettivo, da una parte trasmettere delle conoscenze, una perizia politica, dall'altro anche rientrare nelle grazie del nuovo Principe. Dunque, come trattato di politica il Principe si colloca in una tradizione ben consolidata. Fin dall'antichità i trattati riguardanti la politica abbondano. E così per tutto il Medioevo. Ma che trattati sono quelli dell'antichità e i cosiddetti specula principis, voglia dire lo specchio del Principe? Sono dei trattati in cui di volta in volta gli autori elencano tutte quelle qualità che devono fare, che il sovrano deve possedere. E di solito, solitamente, sono qualità positive. Dunque, un sovrano deve essere eco, deve essere clemente, deve essere virtuoso. Il Principe, dunque, si colloca in una tradizione ben consolidata, ma si colloca in questa tradizione ben consolidata per ribaltarla. Per ribaltarla. Dunque, come vedremo, non ci sarà un elenco di buone qualità, ma ci saranno consigli pratici. Perché? Perché l'obiettivo è proprio quello che vi dicevo. Consigliare il nuovo sovrano di Firenze per far sì che questo sovrano di Firenze fondi un nuovo Stato. La struttura stessa dell'opera ci mostra che l'intenzione dello scrittore era quella in origine. Infatti, è composto da quattro sezioni, e queste quattro sezioni preparano l'esortazione finale, vale a dire quella di fondare un forte Stato nell'Italia centrale. Benissimo. Fin dall'inizio, Fin dall'inizio, Machiavelli mostra che l'obiettivo del suo trattato è proprio questo. Infatti, all'inizio, nella prima sezione, c'è tutta una disamina delle possibili forme di Stato. E è significativo come poi Machiavelli decida di soffermarsi su uno Stato ben particolare, vale a dire un Principato, vale a dire uno Stato monarchico retto da un Principe, un Principato di nuova fondazione. Dunque, chiaramente, il riferimento è a quel nuovo Stato che Lorenzo II de' Medici dovrebbe fondare. Benissimo. In questo senso, il ruolo di Lorenzo II de' Medici viene paragonato a quello dei grandi fondatori dell'antichità. Per esempio, Mosè. Mosè che, Lorenzo II de' Medici, come Mosè, dovrebbe riunire il suo popolo che in questo momento si trova disperso. Attenzione, però, dice Machiavelli, che per fare ciò dobbiamo avere dei presupposti, delle condizioni. In primo luogo, uno, tenere conto della presenza dello Stato della Chiesa. condizione uno. Secondo, avere delle milizie, cioè un esercito proprio e non mercenario. Ultimo, e più importante, il Principe dovrà avere ben determinate caratteristiche, ben determinate virtù. Partiamo dall'inizio. Il ruolo del papato. Machiavelli è convintissimo che il ruolo della Chiesa sia fondamentale, ma sia fondamentale dal punto di vista politico. Dunque, Machiavelli fa questa considerazione. In primo luogo, pensare di fondare uno Stato nell'Italia centrale senza prendere in considerazione il dato fondamentale della presenza dello Stato della Chiesa è assurdo. E già qui vediamo una caratteristica significativa del suo approccio, vale a dire il realismo. Dunque, lo Stato della Chiesa c'è. Se si vuole fondare uno Stato nell'Italia centrale, bisogna tenere conto della presenza dello Stato della Chiesa. In più, è uno Stato particolare, nel senso che il capo di questo Stato detiene sia un primato politico, ma soprattutto un primato spirituale. Dunque, è, secondo Machiavelli, uno Stato inaffondabile, infallibile, nel senso che il Papa avrà sempre, per quanto cattivo governante sia, avrà sempre il primato spirituale. Questo viene visto da Machiavelli come un pregio. Lo Stato della Chiesa è uno Stato particolarmente solido, stabile. Anzi, Machiavelli ribalta la concezione spirituale, nel senso che vede come un pericolo le spinte verso la purezza, le spinte verso l'ascesa, tanto per intenderci San Francesco. Personaggi come San Francesco sono un pericolo, perché allontanando l'attenzione dalla gestione politica dello Stato, naturalmente rendono debole questo Stato. Vede invece, con particolare interesse, i papi sovrani, i papi guerrieri, per esempio Giulio II della Rovere, perché sono proprio degli statisti. Dunque, in primo luogo, tenere in considerazione la presenza dello Stato della Chiesa. E in questo senso Lorenzo II dei Medici deve assolutamente approfittare della situazione perché sul Soglio Pontificio siede un Papa della sua stessa famiglia che di conseguenza lo potrà appoggiare. Esattamente quello che aveva provato a fare Cesare Borgia quando sul Soglio Pontificio sedeva suo padre Alessandro VI. In secondo luogo, il principe dovrà possedere milizie proprie, cioè un esercito arruolato fra i cittadini del proprio Stato, perché naturalmente sono le uniche che gli garantiscono una certa lealtà e una certa fedeltà. Ci ricordiamo qui dell'ordinanza emanata da Machiavelli per la guerra contro Pisa, naturalmente. Alla base di questa concezione c'è naturalmente lo studio della storia repubblicana di Tito Livio. Infine, le virtù del principe. E qui c'è la riflessione più significativa di Machiavelli, perché qui si distacca notevolmente dagli specula principis. Attenzione, dice Machiavelli, che la politica è un campo che è autonomo, che deve essere autonomo rispetto alla morale. Dunque, non ha senso giudicare il principe sulla base della morale comune. Virtù, per quanto riguarda il principe, significa ottenere i propri obiettivi, raggiungere i propri obiettivi. Dunque, dice Machiavelli, tutti quanti si augurerebbero di avere un governante che fosse virtuoso, giusto, clemente, insomma, che possedesse tutte quelle qualità che secondo la morale comune sono positive. E il principe stesso dovrà cercare di andare d'accordo con questa morale fino a dove questa morale non sia controproducente per la propria azione politica. Nel momento in cui diventa controproducente per la propria azione politica, la morale comune va abbandonata e il principe non deve avere scrupolo a macchiarsi anche di azioni che, secondo la morale comune, possono essere considerate malvagie. Modello è Cesare Borgia. Cesare Borgia, condottiero, privo di scrupoli, sanguinario, ma estremamente efficace. e sanguinario sempre a ragion veduta, ma in maniera gratuita. Dunque, il discorso di Machiavelli è questo. Non abbiate paura a uccidere, non abbiate paura a macchiarvi di cattive azioni purché queste azioni abbiano come obiettivo la conquista o il bene dello Stato. Dunque, Machiavelli non è privo di morale, non è uno scrittore della mancanza di morale, assolutamente. Dice che ci deve comunque essere una frattura, una scissione fra quella che è la morale comune e quella che è invece il mondo della politica. Perché? Perché, dice Machiavelli, il governante ha a che fare con gli uomini e gli uomini sono tristi, vale a dire bassi, meschini, tutti dediti al loro interesse. Dunque, dovendo lui avere a che fare con questo tipo di persone, naturalmente deve assolutamente non basarsi su principi assoluti, ma di volta in volta valutare quale sia la scelta corretta. In primo luogo, per esempio, andrà effettuato un ribaltamento. Il sovrano non deve essere amato, perché l'amore, l'affetto del popolo, l'ammirazione del popolo è un dato che è effimero, labile. Basta un incidente per perdere il favore del popolo. Molto meglio governare con la paura, perché la paura è un dato stabile. Nel momento in cui qualcuno mi teme, so che mi temerà per sempre. Su quel dato stabile io posso costruire un mio progetto politico. Altro ribaltamento che bisogna operare è il fatto che il principe non deve essere l'essere umano perfetto, come è invece in tutta la morale antica. anzi, dovendo lui avere a che fare con gli uomini, che appunto sono degli animali, conservano degli istinti animali, anche lui dovrà, in qualche modo, a seconda della situazione, trasformarsi in bestia. E quali animali sapere usare? Dovrà sapere usare la forza del leone e l'astuzia della volpe. Il tutto, attenzione, non come fine a se stesso, ma sempre per ottenere un obiettivo. Altra grande riflessione è quella sulla fortuna. Fortuna non intesa come buona fortuna, colpo di fortuna, ma come sorte. Machiavelli, anche in base alla sua esperienza politica, si rende benissimo conto che non si è totalmente padroni del proprio destino, ma si è sottoposti ai rovesci della sorte. Dunque, che cosa dice Machiavelli? Il buon politico è quello che usa la prudenza, cioè che riesce a organizzare delle strategie difensive quando gode di buona fortuna, in vista di un periodo negativo, ma soprattutto è colui che riesce a intercettare il corso della sorte e si rende conto di che piega stia prendendo la fortuna. Insomma, il buon politico deve essere sempre sincronizzato, deve andare in qualche modo d'accordo con la sorte. Oltre alla prudenza c'è bisogno anche della tempestività, cioè quando la situazione è matura, in un certo senso agire, obbligare la fortuna ad andare d'accordo con se stessi. Naturalmente tutti questi ragionamenti non godettero subito di grande fortuna e infatti furono giudicati scandalosi, tanto che il principe fu subito messo nell'index librorum proibitorum. Dal 600 in poi, ma soprattutto nel 700 e nell'800, pensiamo per esempio a Hegel, il pensiero di Machiavelli sarà rivalutato, sarà rivalutato proprio sulla base del suo realismo, l'attenzione alla verità effettuale della cosa, come si esprime l'autore fiorentino. Grazie.